Uno tra i protagonisti della partita è Davide Bariti, anche da ex. Una grande partita la tua, ma soprattutto una grande partita che abbiamo visto oggi dalla Pergolettese. Sì, al di là delle prestazioni individuali, penso che tutti oggi abbiamo fatto una grande partita. Volevamo prendere punti perché dovevamo muovere la classifica. Ci siamo riusciti addirittura a portarne via tre in un campo difficile, uno dei più difficili. È stata una vittoria fondamentale per noi, per il morale, per la classifica e per tutto. Siamo contentissimi. Una vittoria che dà un segnale anche alla classifica nel dire che la posizione della Pergolettese in questo momento forse è un po' falsa. Sì, però purtroppo quando siamo incampati in un periodo no, quindi la classifica rispecchia quello che poi sono stati i risultati fatti ultimamente. Siamo stati bravi perché in un momento così difficile abbiamo fatto una di quelle vittorie che è un bel colpo fuori casa e quindi sono punti, non dico doppi, però punti importanti. Adesso ci sarà una settimana di tempo fino alla prossima partita, c'è tempo per lavorare, recuperare anche chi è ancora un po' indietro di condizioni. Il mister ci ha detto che adesso plasmerà la squadra come piace a lui e già oggi ha avuto un bel segnale. Sì, non era facile lavorare ogni tre giorni con la partita perché siamo allenati poco, anche a livello di condizione fisica ci sta un po' di difficoltà nel giocare sempre tre partite. Ora finalmente facciamo una settimana tipo in cui potremo riordinare un attimo le idee, potremo prenderci il tempo per capire meglio tutte le situazioni. Ci voleva una settimana tipo per riprendere il filo nel modo giusto.